Il luogo e l'hotel Principe di Savoia a Milano, l'occasione e il trentesimo compleanno di Claudia Galanti. Una festa a sorpresa che si è trasformata in rissa tra l'ex bomber Bobo Vieri e Fabrizio Corona, nata per futili motivi. Fabrizio Corona era nervoso e provocatorio. Così lo definisce Selvaggia Lucarelli dal suo blog, anche lei presente alla serata. Corona anticipa un servizio al veleno su Simona Ventura sul suo giornale Vieri, dopo averlo mandato a quel paese, lo zittisce con un tacitù che facevi i giochini con l'Elemora. Scoppia la rissa. Corona lo colpisce con un cazzotto al volto, al quale Vieri risponde immediatamente, provocando un taglio sullo zigomo del re dei paparazzi. Gli ospiti cercano in vano di calmarli urlando e cercando di dividerli, compresa Belen Rodriguez, che si era presentata alla festa accompagnata da madre e sorella. Belen che, disperatasi, se ne va, con Corona che le va subito presso.